Ormai il turista dei nostri giorni è sempre più un turista che ama calarsi nel contesto dove ha deciso di passare il periodo di vacanza. Visitare passivamente i luoghi o le città, passare in rassegna musei o luoghi di interesse non sembra bastare al turista moderno, esigente, informato e con le idee ben chiare su cosa lo può soddisfare. La nuova frontiera di questo viaggiatore è il turismo esperenziale che da diverso tempo ormai raggruppa un sempre maggior numero di viaggiatori che cercano espressamente nei luoghi in cui vanno questo tipo di contatto con il tessuto sociale ricettivo del luogo prescelto. A questi criteri sembra da sempre rispondere itineris che nel nostro comprensorio turistico ogni anno fa vivere a migliaia di vacanzieri esperienze coinvolgenti in aziende e borghi storici mettendo al centro il turista. Noi l'anno scorso abbiamo toccato 1980 persone, è una cosa molto importante perché dobbiamo constatare che ogni persona come dicevo prima per noi è un buon biglietto da visita. Costa e dentro terra hanno del resto talmente tanto da offrire a chi oltre al mare vuole conoscere e vivere il territorio che lo ospita che non c'è che l'imbarazzo della scelta su dove costruire e cucire a misura l'esperienza da proporgli. Ma soprattutto quello che si propone è assolutamente interessante perché il turista viene immerso in una natura bellissima quando si tratta della campagna, in attività enogastronomiche, agricole quindi può smielare, può contribuire a fare il formaggio, può portare il frutto del suo impegno di quella mattina o di quella sera a casa e conosce le luoghi che magari per l'occorrenza nelle serate che sono giornate un po' particolari mettono in mostro il meglio di sé quindi abbiamo delle perle nel territorio a pochissimi chilometri di distanza che intrano molto bene l'offerta di mare e di arte che fanno metà disposizione. Lo splendido borgo di Mondavio con la sua rocca e le sue stanze e i suoi figuranti oltre che a un menù tipicamente rinascimentale potranno permettere un tuffo nel tempo davvero emozionante ma la vera novità di quest'anno grazie ad un'azienda locale è dare la possibilità a chi vuole spostarsi in bicicletta anche senza avere una preparazione da giro d'Italia di assaporare le bellezze paesaggistiche che solo un mezzo come la due ruote permette di fare anche a chi purtroppo è costretto su una sedia a rotelle. Abbiamo cercato di poter dare appunto la possibilità di vivere questa esperienza anche a chi purtroppo per problemi di salute magari avrebbe dovuto rinunciare. Invece con questa bicicletta apposita nel quale sarà possibile caricare la sedia a rotelle si potrà dare la possibilità anche a queste persone di vivere questo tipo di esperienza. Sul nostro sito www.bikerentalmarket.it sono riporati tutti i vari modelli comunque rimaniamo sempre noi nei vari contatti che abbiamo dato disponibili per chiarire ulteriori dubbi.